Buona politica e nuova speranza in Sardegna. E questo è lo slogan della sesta edizione della Scuola di Formazione Politico-Sociale promossa nell'Isola dalle Acli in collaborazione con la Conferenza Episcopale Sarda. Sono in programma tre laboratori a Cagliari, Sassi e Nuro. Il programma dell'iniziativa è stato illustrato stasera durante una conferenza stampa. All'incontro, ospitato nella sala parrocchiare della Beata Maria Gabriella, sono intervenuti Salvatore Urru, presidente provinciale delle Acli, e Don Pietro Borrozzo, che sarà uno dei relatori del corso, nel quale tratterà il tema La Dottrina Sociale della Chiesa. All'iniziativa Nuro partecipano 20 iscritti. Si comincia sabato con la relazione di Franco Florisi, che si soffermerà sulla comunicazione sociale e politica. Don Borrozzo ha ricordato gli inviti che la Chiesa e la Conferenza Episcopale Italiana hanno fatto nel corso del tempo per sollecitare l'impegno dei cattolici in politica, al fine di porsi al servizio della comunità. Ma per farlo occorre essere preparati ad affrontare le sfide imposte dalla crisi economica e sociale che ha investito la società italiana e Sarda. Tra qualche giorno inizia anche in provincia la nuova edizione della Scuola di Politica promossa dalle Acli insieme a quest'anno, la novità con la Conferenza Episcopale Sarda. Quali sono i punti principali del programma? La novità è che la scuola non si concentra più nei grossi centri, ma va nei territori. Infatti sabato inizieremo con il primo laboratorio, poi ci sarà il secondo e il terzo, fino al momento del grosso appuntamento, sempre in città, di un laboratorio a interesse regionale, con la presenza di Pino Arlacchi nella primavera 2015. L'importanza della scuola è che vogliamo sottolineare ancora una volta l'importanza della politica, la politica messa comunque al servizio del cittadino e del territorio. e vogliamo coinvolgere nuove generazioni, ma anche quelle persone che oggi vivono un momento di isolamento, la crisi dei partiti e vogliamo partire dalle ragioni di fondo che sono quelle che vogliamo riportare la centralità della politica in mezzo alla gente.